Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo si avvicinò a Gesù uno degli scribi e gli domandò Qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù dispose, il primo è Ascolta Israele, il Signore nostro Dio è l'unico Signore Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima Con tutta la tua mente e con tutta la tua forza Il secondo è questo Amerai il tuo prossimo come te stesso Non c'è altro comandamento più grande di questi Lo scriba gli disse Hai detto bene maestro E secondo verità Che egli è unico e non vi è altro all'infuori di lui Amarlo con tutto il cuore Con tutta l'intelligenza E con tutta la forza E amare il prossimo come se stesso Vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici Vedendo che egli aveva risposto saggiamente Gesù gli disse Non sei lontano dal regno dei cieli E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo Parola del Signore Nella selva dei comandamenti biblici Pare siano 634 Naturalmente ci si poneva la domanda In tutta questa foresta di norme Di leggi Di prescrizioni La domanda di questo scriba Qual è il primo di tutti i comandamenti? Cioè che dobbiamo fare soprattutto Per essere graditi a Dio? Ecco questa domanda è lecita Uno non se le ricordava neanche tutti Ecco allora abbiamo bisogno di andare Al cuore della scrittura Al cuore della legge La legge intesa non solo come Un paletto o qualcosa che ti costringe Ma la legge per la Bibbia La legge di Dio È una strada di vita Ecco allora che Gesù dà la sua risposta In parte assolutamente tradizionale Una risposta che davano molti rabbini del tempo Citando il Deuteronomio 6 Ascolta Israele È la preghiera che il Pio Ebreo Diceva e dice ancora oggi Almeno tre volte al giorno Il Signore è il nostro Dio È l'unico Signore Tu amerai Il Signore è tuo Dio Con tutto il tuo cuore Con tutta la tua forza La tua anima Con tutta la tua mente Con tutta la tua forza Ecco c'è di con tutto te stesso Anzi i rabbini dicono La tua forza vuol dire anche i tuoi soldi Le tue sostanze Cioè con tutto ciò che sei e che hai Amerai il Signore con questa radicalità totale Ma che cosa fa Gesù? E questa invece è proprio una novità Che inserisce lui In colla Come due facce della stessa medaglia Un secondo comandamento Che dice essere Amerai il prossimo Il tuo prossimo come te stesso Non c'è altro comandamento Vedete al singolare Come se questi due fossero uno solo Più grande di questi Non c'è altro comandamento Sono un comandamento Ormai per Gesù Inscendibilmente unito Non esiste l'amore di Dio Senza il prossimo E l'amore del prossimo Senza Dio C'è anche un terzo amore Che si nasconde tra le righe Perché Amerai il tuo prossimo Come te stesso Che vuol dire Che c'è l'amore di te stesso Anche alla base Se non ami te stesso Non riuscirai ad amare il prossimo Ma potremmo anche dire Se non fai esperienza di essere amato Da Dio Non riuscirai ad amare Dio E neanche i fratelli Ecco quindi questa circolarità Dell'amore Che viene poi sottolineato Dallo scriba Che gli dice È vero maestro Egli è unico Amarlo con tutto il cuore E amare il prossimo come se stesso Lui accoglie questa lezione di Gesù Vale più di tutti gli olocausti I sacrifici Vale più delle liturgie Al cuore della legge C'è l'amore di Dio Sopra ogni altra cosa Ma un amore così incarnato E concreto Che si fa amore del fratello Dirà San Giovanni Nella famosa Famosa frase della prima lettera Non si può dire Di amare Come fai a dire Di amare Dio Che non vedi Se non ami il fratello Che vedi Certo Dio non ti stressa Il fratello invece è lì Che rompe le scatole ogni tanto E che è fatica Da essere amato E invece è così Quella è la strada Questa è la strada La strada Di un amore Radicale Totale Verso Dio Che appunto Prende forma però Nel volto Nei volti Dei fratelli E anche nel volto tuo Anche tu sei amato Sei amabile E sei da amare Direbbe la psicologia Ti devi voler bene Ma perché ti devi voler bene Non perché sei perfetto Non perché sei bravo Ma perché sei amato da Dio Perché sei un figlio Un figlio viene amato dal Padre Così com'è Siamo amati Possiamo amare Il Vangelo è tutto qua Così com'è Così? Così? Grazie a tutti.